Un appuntamento per questa sera, Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, ma anche noto opinionista, sarà alla Palazzetto di Caldonazzo per presentare il suo secondo romanzo. L'occasione è il Trentino Book Festival di scena fino a domani nel comune Lacustre. I migliori di noi è un libro che parla di un'amicizia, un'amicizia che non è stata sconfitta dal tempo, quella tra Max e Fabio, che si ritrovano dopo una lunga separazione, ma assieme ai ricordi riaffiorano anche vicende che si sarebbero volute seppellire. Uno romanzo che parla delle cose che si vogliono salvare e di quelle che magari si sono perse irrimediabilmente. L'appuntamento, come detto, sarà questa sera alle 20 al Palazzetto dello Sport di Caldonazzo. Dialogherà con Scanzi, il giornalista del Quotidiano Ladige, Andrea Tomasi.